care teste fiorite buon venerdì bentornati alla rubrica video non so se vi siano mancate le piccole pillole e bio bibliografiche dedicata ai singoli autori che avevo iniziato a proporvi qualche settimana fa sperando che vi siano mancate ve ne propongo una oggi dedicata ad un autore gigantesco un un gigante della letteratura per l'infanzia un gigante in questo momento molto anziano che ha prodotto cose magnifiche il suo nome ahimè per me è impronunciabile anche se me l'hanno spiegato tante volte si scrive così ed è goose kugger o cooler come come si dice insomma lui è olandese quindi la pronuncia mia un po difficile vi domando scusa in italia i suoi libri che sono stati pubblicati prevalentemente da camelo zampa feltrinelli salani e la nuova frontiera junior sono dei libri dirompenti e la sua caratteristica se dovessi trovare il senso della poetica di cusher in due parole direi che è la leggerezza una leggerezza di scrittura incredibile pur riuscendo a lavorare con temi francamente molto pesanti nei libri di cusher si trova di tutto soprattutto nella se penso alla collana dedicata pollici da mio padre un ppp per sempre insieme amen un improvvisa felicità o anche come il vento verso il mare insomma abbiamo a che fare con una ragazzina il cui padre è un tossicodipendente e che lei cerca di aiutare in tutti i modi ha un fidanzato che è un migrante si trova in situazioni una più complicata dell'altra ma leggere le storie di pollici raccontate da lei in prima persona quindi con una focalizzazione interna fortissima ci rendono il tutto di una leggerezza che sembrano delle nuvolette questi libri il che è in contrasto fortissimo con ciò che poi libri raccontano di fatto ma come dico sempre non è il contenuto che fa la storia o che fa la qualità della letteratura e la sua forma e la sua forma è data dalla scrittura devo dire che in questi casi un valore enorme ce l'ha il traduttore siamo di fronte ad una lingua quella olandese che non è una lingua molto vicina alla nostra dal punto di vista sintattico e quindi il traduttore fa un lavoro importante se lo fa sempre il traduttore un lavoro importante ma con le lingue particolarmente lontane insomma dalla nostra ancora di più mi viene da dire se riesce il traduttore a consegnarci questa leggerezza di scrittura anche in forma tradotta quindi mediata e reinterpretata necessariamente essendo travasata in un'altra lingua mi viene da dire che capolavoro deve essere questa cosa scritta e letta nella sua lingua madre allora cugger è noto ai più per questo titolo che il libro di tutte le cose edito da salani che è un capolavoro assoluto un libro anche in buona parte autobiografico con una storia di un bambino che vive in una famiglia direi piuttosto oppressa da una componente fortemente religiosa oppressiva importante il cui unico desiderio il cui unico obiettivo da grande è la ricerca della felicità da grande voglio essere felice come a dire da piccolo non posso non me l'hanno permesso non so neanche cosa sia esattamente la felicità ma da grande questo so che voglio essere e questo voglio perseguire è una scrittura diciamo in parte diversa quella del libro di tutte le cose rispetto alla scrittura che troviamo in pollichi che invece è forse più sorridente in qualche modo se se si potesse dire di una scrittura che sorridente ecco direi che forse pollichi un po più sorridente e ancora di più e più scansonata intanto perché abbassiamo la fascia d'età di riferimento e poi perché spostiamo la focalizzazione è la collana dedicata a madlif questo personaggio che in olanda è diventato famosissimo è stato anche tradotto in in linguaggio televisivo con la con alcune serie serie tv madlif è formata la collana madlif è formata da quattro da cinque romanzi scusate 4 edit in italia da camelo zampa l'ultimo appena uscito l'ho recensito da poco e trovate naturalmente tutte le recensioni nei commenti sotto un romanzo a sé che questo graffi sul tavolo uscì molti anni fa per salani e uscì come romanzo indipendente io ho conosciuto user e madlif per la prima volta da questo romanzo che ho letto come un romanzo autoconcluso insomma non immaginavo fosse dentro una serie che è la serie di madlif conosciamo madlif quando sta per traslocare di casa e la portiamo avanti fino all'ultimo romanzo quello appunto da pochissimo edito che questo qui un cervello di maccheroni in cui madlif fa il salto dall'infanzia a qualcosa un po di più dell'infanzia direi alla preadolescenza comincia a toccare la mano alla sua cugina ideale che pollichi si innamora gioca meno o almeno gioca in un modo diverso perché si innamora in madlif la scrittura almeno per quello che possiamo leggerla in traduzione molto diversa innanzitutto la focalizzazione esterna il narratore è un narratore diciamo un narratore zero non onnisciente che lascia molto spazio ai suoi personaggi c'è addirittura un tentativo di di creare una specie di sceneggiatura c'è tantissimo dialogo diretto soprattutto nei primi due romanzi poi la scrittura si modula molto resta però sempre una focalizzazione zero quindi madlif non dice io e questo ci permette di rilassarci molto di più ci permette di goderci tutto quello che fa madlif che a tratti è davvero molto molto divertente molto scansionato i problemi che madlif incontra sono di natura più lieve rispetto a quelle che incontrerà pollichi e non ne parliamo rispetto i giganti contro cui si deve confrontare il personaggio del libro di tutte le cose resta sempre in tutto in tutta la scrittura di questo autore questo amore spassionato per l'infanzia questo tentativo di raccontare quell'età di mezzo che passa tra l'infanzia e quasi l'adolescenza che solo cujo riesce a raccontare così con una leggerezza estrema una pulizia estrema un'ironia che gli permette e ci permette dire di reggere e di leggere davvero anche le cose più dure madlif da queste cose più dure in parte a volte è più schermata e più messa al riparo pollichi no pollichi è molto più in primo piano e così lo è il protagonista del libro di tutte le cose però insomma mutate smutandis perché si rivolge ad una fascia d'età diversa con madlif siamo alla fine della primaria forse l'inizio della secondaria per qualcuno che non è un lettore abituale con pollichi e libri tutte le cose siamo decisamente nella prima o seconda classe della secondaria di primo grado poi naturalmente ognuno valuta a seconda dei propri lettori restano due libri fuori da questo coro che sono due capolavori assoluti sono cinque in realtà ma in italia ne sono stati editi solo due dalla nuova frontiera junior e sono i primi due libri del pentateuco riscritto in maniera ironica esilarante da kuger sono la bibbia per non credenti uscita in genesi esodo purtroppo pare che non usciranno gli altri tre i romanzi credo non abbiano avuto grande successo ma sono una riscrittura incredibile del del pentateuco dei primi cinque libri della libri della bibbia della torà come come l'ha conosciuta lui e io vi consiglio assolutamente di leggervi per farvi delle grasse risate non sono libri pensati e scritti per ragazzi comunque non siamo assolutamente nella fascia né della primaria né della secondaria di primo grado possiamo alzare però la fascia d'età arrivare i ragazzi arrivare agli young adults e francamente goderceli anche noi perché ne vale assolutamente la pena vi lascio qui spero leggiate tutto il possibile di kuger spero possiate leggerlo in olandese dove è uscito anche molto di più e chissà che prossimo autore autrice vi racconterò nella prossima pillolina bio bibliografica ciao teste fiorite